Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 piano piano poco poco no scusami passa tu a destra scusami piano piano poco poco vai vai adesso piano 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 l'hanno pulito questi alla potenza bellissimi vado occhio a destra che passo no ma che fai io ci sono tu piedi con me proprio non ce ne so no ma che fai no ma che fai io ci sono tu piedi con mezzo Grazie a tutti partita sei laggiù la vuoi abbassare? fermi tutti no niente niente scendiamo tanto non penso che sarà impegnativo dai andiamo vabbè dai un po' di disegnare scendere un po' di disegnare scendere un po' di disegnare scendere che c'è il fango? con il merda di cavallo cazzo che stavo carendo io penso la merda di cavallo stavo carendo chiaramente che è? chi ha? chi ha? dai bastardo dove? i rovi no vaffanculo però in questi casi mi fa scaldare un braccio rotto una cosa ma vaffanculo ho saltato e sono finito qua vabbè io ti faccio una bella ripresa così me la metto pure lascia la bici devi uscire da questa cosa lascia la bici non la recupero io io avevo appena venito di dire la bici ti ha ratto bene sede qua ti ci ho saltato guardala guardala sede qua ora parliamo ti ci ho saltato di già di già e finivo tutto lì lo sapiva si è a mettere il capo e fare i cavi e fare i cavi fotografia a non fare così dai si uomo zambo zambo a che filo vai aspetta funziona a radio aspetta un secondo guarda guarda che bello geronimo non ti sento divertamente non ti sento 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 sono saltato da dove sei tu sono saltato direttamente qua alessandro ti sei persa la caduta di Piera controlla se la telecamera è accesa perché ho ripreso tutto non ti sento affermativo è dietro mettiti dietro affermativo attualmente abbiamo fatto 9 chilometri 8 a sinistra sentiero vedra a sinistra 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 ok grazie grazie